ho posto un po' di cose con i microfoni ma recuperiamo subito e lo facciamo con Franco Arangone, Ezio Vescovo, Gianni Nesto, buonasera buonasera, buonasera prego ma come baby that's the only thing I plan to do do baby dream a while, shame a while beautify happiness and I give do 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 I can give you anything but love baby diamond brussels for war do do sound baby it's the lucky day you know dream well baby I can give you anything but love do 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 Iovo, baby I can't give you anything but love, baby, that's the only thing, stupid, oh baby, dream a while, dream a while, use you to find happiness and I guess All the thing you always freedom, you better love, baby, love, baby, dime a brussel, ooh, does not sell, baby, take the lucky day, you know I'm dumb, baby, I can't give you anything, I can't give you anything, I can't give you anything but love, The Eccoci qua, buonasera, buonasera, grazie per essere benvenuti, così numerosi anche a questa puntata del salotto del Mandronio, grazie anzitutto al Circolo Galimberti che ci ospita, Primo Marin, a tutto il suo staff, grazie agli amici di Videoservizi TV che questa sera sono chiamati a un super lavoro perché abbiamo un palco con un po' di cose che vado a presentarvi subito grazie ai nostri ospiti fissi, non parlanti i capitani non giocatori del Salotto del Mandrogno che sono qui in prima fila dicevo, una serata con un bel po' di cosette abbiamo musica abbiamo una degustazione di olio abbiamo l'addestratore di cani insomma non ci manca veramente niente, cominciamo proprio da lui da Massimo Accatino buonasera Massimo eccoci qua allora diamo il microfono a Massimo, grazie si sente? si sente? buonasera Massimo Accatino addestratore di cani abbiamo detto uno degli allievi io nasco da Massimo Perla a Roma Massimo Perla è il più celebre tra gli addestratori di cani perché sei a destra un cane oltre per farlo ubbidire ma anche per portarlo al cinema si quando mi capita quando mi chiamano preparo anche i cani per i set cinematografici e l'ultima esperienza che ho fatto adesso è stata l'anno scorso d'aprile 45 giorni in Grecia ho girato ritorno all'Odissea che adesso dovrebbe uscire nelle sale con Ralph Fiennes la Binosh la storia un po' di Ulisse quando arriva a Itaca tutte le scene con i cani dalla preparazione di Argo l'incontro con Argo che fa il morto riconoscimento di... e quindi il cane l'hai addestrato tu per recitare per recitare con Giuliette Binosh in quel caso lì più con Ralph Fiennes e Paula Binosh Penelope la moglie di... è bella questa cosa abbiamo anche... come si chiama il caglione? tra l'altro io qua ho una piccola cagnetta vi racconto una piccola cosa lei si chiama Dube tienimi cina si chiama Dube è una cagnetta che i proprietari si chiamano Lorella con suo marito Gianni Lorella dove è Lorella? buonasera Lorella pensate che Lorella era una mia cliente quando era arrivata da me non sapeva fare neanche un seduto a questo cane mi guardava e mi diceva questo cane non mi guarda non fa neanche il seduto beh lavoriamolo e così da allora ho iniziato a lavorare insieme a lei brava anche lei perché poi ha seguito un percorso anche lei cinofilo e abbiamo tenuto determinati risultati tra l'altro non so ancora se sarà mi hanno chiesto di fare un got talent con la Carlucci con lei vedremo perché io non è che sono amante dei got talent quindi avremo un talent forse forse a maggio forse non lo so voi ricordatevi se dovesse mai essere se ci sapete potete dire noi l'abbiamo visto a solotto non ci farà fare brutta figura stasera ma credo di no lo vedremo tra poco grazie Massimo Catino accomodati pure no no vieni qua dove vai no accomodati qua secondo te perché abbiamo messo le sedie ho capito che beh non è che le abbiamo messo mi sa che è il cane che deve addestrare te sai va bene a proposito di televisione lei invece è stata da non lei è stata hai visto che c'è di nuovo la tua trasmissione quella dove andavi tu io vado un altro anno di nuovo così mi scazzano via subito lei invece è andata da Antonella Clerici è una cantante giovanissima è bravissima tra lei e te ci passano un po' di un po' di anni non voglio fare il conto perché non so esattamente quanti anni ha lei ma glielo chiediamo Valentina Giamboi buonasera io sono onorato che dopo dopo Antonella Clerici sei da noi buonasera buonasera com'è stata l'esperienza televisiva devo dire che è stata veramente un'esperienza bellissima sono molto sono molto orgogliosa di essere stata nel team di Loredana Loredana è la Bertè c'è una foto bellissima con lei e la Bertè che gira su vero che gira su Facebook i social eccetera ma com'è Loredana Bertè devo dire che è molto dolce gentile e mi sa capire oh ti sa capire è anche capire non è una cosa da com'è andato il talent è andato bene si è andato molto bene ok come si chiama la trasmissione The Voice Kids The Voice Kids quindi la voce bambini voce ok tu non eri The Voice Kids The Voice Senior quindi siete un po' colleghi mettiti vicino a lui dai sediti vicino così quando sbaglia guarda che bel quadretto dai sono anche ton sur ton è innocuo non ti preoccupare tra un quarto d'ora se vedi che va giù è perché si appisola fa parte dello spettacolo non lo fa apposta è proprio tutto studiato non ti preoccupare poi lo sentiremo cantare naturalmente e andiamo qua da cinema canzone torniamo al cinema perché abbiamo con noi uno sceneggiatore che si chiama Sergio Pizio buonasera buonasera scrittore sceneggiatore insomma un po' di cose un po' di cose buonasera a tutti benvenuto benvenuto grazie grazie sceneggiatore di film di film quindi praticamente è un film che si basa sul purtroppo il gioco d'azzardo quindi una tematica serve un cagnolino? ma no però adesso no mettilo nel copione io veramente sì potrebbe anche esserci metti nel copione un cagnolino te lo forniamo ingaggiamo lui ingaggiate il cagnolino ingaggiate il cagnolino Sergio Pizio ci racconterà la sua la sua scrittura e a proposito di scrittura c'è uno storico cultore del territorio arriva da Castelnuovo Castelnuovo scrivia è con noi Roberto del Conte 32 libri hai scritto più o meno 31 ma io ne avevo letti 32 allora di chi era un po' i conti li perdo 32 libri però anche come curatore non solo come autore o coautore ma anche come curatore il curatore per mia fortuna passa come autore e quindi e quindi fa curriculum ma anche ecco senti senza contare che a volte da curatori si si fatica di più perché se uno scrive si arrabbia con se stesso quando devi coordinare 10 o 12 autori che poi uno non ha i tempi di consegna infatti ho giurato certe cose di non farle più senti ho detto cultura del territorio forse banalizzando un po' ma certamente sintetizzando le cose che tu mi dai dello storico che in realtà non sono apprezzo molto la storia però un po' mi manca non sono proprio un cultore di storia diciamo che la storia tra l'altro territorio si si anche perché sono stato come tu sai presidente della biblioteca nostra di Castelnuovo per 10 anni e quindi quello inevitabilmente ti porta giustamente a promuovere il territorio allora qui ci sono libri il dito e l'anello ma poi io mi sono sono stato devo dirti confesso confesso attratto qua hai messo un titolo proprio per far cadere nel trappolone mogli cavalli meloni e in realtà cosa manca no quello che uno vuole in realtà i titoli devono colpire devono un po' funzionare creando curiosità perché altrimenti uno non non è attratto non dico i miei dico in generale però in questo caso non è farina del mio sacco completa perché io ho preso questa frase da un'opera di Matteo Bandello di Castelnuovo di Castelnuovo di cui ho diretto peraltro per 10 anni il centro studi quindi conosco bene e c'era questa bella frase che Bandello di che ovviamente non svelo il significato se no non adesso ma tra poco si accomodati accomodati poi vediamo poi vediamo non ti preoccupare accomodati pure vi ho promesso una degustazione di olio avete se siete informati vi piace io ho invitato questa produttrice di olio attratto da una domanda che mi ha fatto lei e alla quale francamente non ho saputo rispondere anche perché io essere astemio perché uno spende 40 euro per una bottiglia di vino a cena che se ne va dove vai che cosa frequenti l'enoteca pinchiorri tutte le sere dove vai 200 euro di bottiglia vabbè adesso non esageriamo perché uno spende al ristorante 40 euro per una bottiglia di vino che se ne va nel giro di appunto una cena e anche anche meno e non spende altrettanto per una bottiglia di olio che non solo dura molto di più non solo aiuta a migliorare i piatti se l'olio è buono ma fa anche del bene io non mi sono dato una risposta appunto in quanto astemio ma lo chiediamo ad Anita Aquilino buonasera Anita Aquilino tra le varie cose prego Anita Aquilino tra le varie cose è una sommelier dell'olio ed è produttrice a olivola che poi ho scoperto che olivola non si chiama così perché c'erano gli olivi forse quindi tutta un'altra storia credo credo sia solo un caso olivola che di recente è diventato la prima città dell'olio del Piemonte ce ne sono 400 circa in tutta Italia naturalmente tutte concentrate al sud oppure nell'Italia centrale e ce n'è una in Piemonte ed è olivola che se la memoria non mi inganna è il terzo paese più piccolo della provincia di Alessandria giusto? tutto giusto tutto giusto no no fate pure tutto giusto tutto giusto potete potete perché uno paga 40 euro per il vino e non per l'olio? perché non lo conosce non conosce niente dell'olio io ho visto che c'è un'ignoranza totale ma noi stasera siamo qui l'olio non è è un grasso l'olio è un nutricerutico è uno dei cibi indispensabile per la nostra buona salute poi vi spiego perché ma dovete sapere anche che la signora è di Milano e sei innamorata del Monferrato come ha fatto in tanti e poi è venuta in Monferrato ha detto perché non proviamo a mettere l'olio diciamo che il cambiamento climatico l'ha aiutata lei è ben contenta del cambiamento e allora ha valorizzato il territorio piantando gli olivi c'è anche la panchina gigante la panchina dorata ovviamente con vista sull'oliveto insomma ci sono un sacco di cose da raccontare l'olio è qua il pane di là tra un po' ci sarà grazie Anita accomodati dove vuoi a proposito di valorizzazione del territorio valorizziamo anche Alessandria lo fa un'associazione nata da poco banalmente chiamata l'associazione di via San Lorenzo non è esattamente così perché sì che ci sono commercianti abitanti di via San Lorenzo ma si va a pescare anche nelle vie limitrubbe tutto per migliorare un centro di Alessandria che effettivamente oggettivamente ha bisogno l'associazione si chiama la città nostra a rappresentarla questa sera qui al salotto del mandronio Massimo Castelli caro Max buonasera benvenuto buonasera grazie 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 a voi ho fatto tutto giusto anche con te non sbagli mai eh no no sono ruffiano non esageriamo così ti faccio fare la testa ah devo fare anche la testa quanto costa la testa poi te lo dico più di una bottiglia di olio un po' di più no più di una bottiglia di olio di olio di olio buono anche la testa è buona ah ok 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 senti la città nostra che cos'è in tre parole allora è una città è una è un'associazione che comprende cittadini cittadini commercianti e che è nata da dopo Natale per cercare di rivalutare un pochettino il nostro centro se lei ha messo gli olivi in Monferrato loro hanno messo le palme in via San Lorenzo no perché poi qui c'è qui e ci siamo cercati anche delle grane ma le palme noi abbiamo scritto sul giornale che per forza loro sapevano che alla prima pioggia ci sarebbe stato il mare quindi le palme portano più sfiga dei baracconi da quando le abbiamo messe ancora smesse di piove no però la palma è una bella pianta poi c'è una spiegazione abbastanza logica anche della palma cioè non tanto del territorio ma per quello che può allora diciamo non sporca benissimo non perde le foglie non perde le foglie che è già tanta roba che non ha bisogno di una manutenzione esagerata e anche questo non è tanta roba sono visibili da lontano perché sono due metri e poi sotto Natale le addobbiamo la palma di Natale la palma di Natale solo noi solo ad Alessandria Massimo Castelli grazie accomodati e allora chiedo Ezio Vescovo di lasciare il posto a io non so chi sono non so cosa fanno non li voglio non li conosco smentisco tutto quello che potranno dire e fare signore e signori questa sera al salotto del mandronio abbiamo una super band che si chiama Los Bukowski buonasera buonasera Delfino Delfino vieni vieni sopra vieni anche perché non ho presentato dovevo presentarvi Moroide e Delfino buonasera Delfino Delfino e Moroide vieni dico su le donne e tiro su dovresti avere una roba che noi io mi lascio la campagna per amnicità ma Delfino non ho non ho Delfino ti devi essere la stalla guarda lì ti devi essere la grippia io non non devi essere la stalla perché il ciav ha tiavitì il pulato ti sarà lui no niente la croata io avevo la vasela te la spurgava ti sarà robinato no 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 ti devi dire il ciav Delfino eh no eh no tei cretini 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 no ma qua che mi offende tei cretini 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 ma madonna scappai il vati scappai il torri scappai il gravi tei cretini 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 ma chi hai il ciav ma chi hai il ciav tei cretini 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 vabbè comunque scappai due vati il torri tre gravi e due eh due pucin 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 per venire qua Alessandra che io mi faccio scappare tutti i besti dalle stalla schizia buonasera a tutti dai los Bukowski da sera lunga di Crea in realtà ciao a tutti siamo in tre e quattro ma siamo in sei allora arrivano siamo due qui da sera lunga di Crea sopra hanno la madonnina che li guarda quindi certo 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 non lo dice la madonnina lei no lei no però noi stasera avrò a fare esperimento facciamo un esperimento lo traduco per i mandronis facciamo questa sera facciamo un esperimento a Roma a Roma vogliamo vedere se il dialetto se il dialetto Monfrin Monferrino Sampaia Sampaia con l'Alessandrin con il mandroni si sposa con il mandroni Sampaia si sposa perché noi diciamo ad esempio Matunè voi dite Fanciot giusto quindi vediamo cosa riuscite a capire per esempio prima prima da setarsi fuma una domanda se mi dig sfilisi mia bravo bravo perfetto allora il gemellaggio è cominciato grazie a tutti loro sono con noi fate una canzone Vittorio De Vittorio cominciamo con un pezzo Stefano De Stefanis Marot io proporrei con un pezzo sulla suocera ci sto ci sto mai nessuno ha scritto un pezzo sulla suocera è vero o no? ma ed è la storia di quando tu sei lì tranquillo con tua moglie e tua moglie dice anche le domeniche mattina i ben me mama e ti dice ma e te ti cala una madonna che non finisce più madonna a tava diti da mulala matenenda e dament a tajam pini milpani laslali laslali se et fai ribancat o mari mi lasceram dell'armari perché la perde al pavi laslali 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 a tajam a tajam i sber armari laslali laslali ed eschi venga tajam surera i ticcala entra qui e l'habitante dell'armari asemati asum setami snacaria e io pensai titaldi an bindi kün tlemekam stagili 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 e kaff mangiul pul sinari stagili 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 andengli per l'armari stagili maestro stefano de stefanis e vittorio de vittoris quando viene da noi la suocera la mettiamo nell'armadio ma lo sapete cosa sono il furzinari lo chi ha il furzinari 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 sono quegli insetti dell'uva sono quegli insetti che ha le tenaglie lunghe così al furzinari furzinari avremmo modo di coinvolgervi in qualche detto piemontese come per esempio io e poi crin che vengono vecchi ma tanti vecchi che vengono crin è vero o no? pillole di saggezza e canzoni con los bucoschi le donne accomodatevi oh mamma eh non spaventarti eh cioè tu continua a cantare come canti tu non 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 spaventarti non spaventarti allora prima di sentirti cantare però forse dobbiamo eh diamo una parlo per te vabbè per esempio tu ve lo puoi fare sì questo sì è sì sembra è Grazie a tutti. 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 Ecco, stai lì. Stiamo vicini. Muori, muori. Muori bene. Muori bene. Muori. No. Mi ha ucciso il cane. Senti Massimo, quanto tempo ci vuole ad estrarre un cane così bene? Vai, porta il fiore. Grazie. Allora, per ad estrarre un cane fondamentalmente, a parte il fatto che ci vuole tanta costanza. molti clienti mi chiedono, la maggior parte dei clienti mi chiedono quanti cicli di addestramento ci vogliono. Onestamente non ci sono dei cicli. Si inizia un percorso e si continua. È logico che io consiglio sempre tre mesi, iniziare a tre mesi, fare un corso addestramento perché il primo anno è fondamentale. Quello che io ci tengo a precisare che mi capita spesso in queste situazioni di trovare è che quando noi dobbiamo prendere una macchina, scegliamo il tipo di macchina, dove è il tipo di macchina? Se è un diesel, se è magari un benzina, e si cercano le opzioni. Con il cane no. Passo vicino, mi piace quel cane e lo prendo, senza sapere che ogni cane ha delle caratteristiche, delle memorie di razza, determinati comportamenti. Dunque la scelta del cane è fondamentale. Se mi prendo un lupo cioslovacco, vi racconto sto aneddoto. Tre mesi fa vado a Serravalle, perché una signora mi contatta e ha preso un lupo cioslovacco. Nove mesi. Va bene, nove mesi. Qual è il problema? Il lupo cioslovacco, non so se sapete che cane è, è un cane molto impegnativo, un cane bravo fondamentalmente, però è un distruttore, mette in un giardino e distrugge tutto. Sapete quanti anni aveva la signora? 93 anni. Allora io mi chiedo, ma un allevatore, vendo una signora di 93 anni, ti trovi poi un cane? No, anche perché una signora di 93 anni è ormai quello che ha imparato, è imparato. No, però te do dire, un cane di 93 anni, ti trovi un cane di 9 mesi a 93 anni, capisci che diventa anche un impegno gestirlo. Dunque la scelta del cane è fondamentale. Di conseguenza, io consiglio sempre, nel momento in cui uno prende il cane, deve scegliere la razza giusta. Io sono pro-femmine, sempre per le femmine che i maschi. Sono più obbedienti le femmine. C'erano meno problemi, sono meno dominanti, se lo porti in giro non è che ogni secondo ti marca il territorio. Chi l'avrebbe mai detto? Io consiglio sempre le femmine. Tipo Dube, eh Dube? Se qualcuno ha qualche domanda, mi faccia pure qualche domanda. No, 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 ma ci sono delle razze che sono più portate, più addestrabili, più portate? Ma innanzitutto sono i Gold Retriever e i Border Collie. I Border Collie sono la razza più intelligente fondamentalmente, però dopo i Barboncini. I Barboncini è una razza molto intelligente. Il problema è che sono molto appiccicosi i Barboncini, sono cani abbastanza sensibili. Il Border Collie invece è un cane più da lavoro. Il problema è che il Border Collie è come un pezzo di vetro. Non è che impara solo le cose positive, impara anche le cose negative. E sono cani da lavoro, quindi se quando ti dice lavoriamo, lavoriamo. Però diciamo che come razza, lupoidi e bracoidi si apprestano di più. I molossoidi tipo il Pitbull, Rottweiler, questi sono cani, sì, ottimi da lavoro, ma sono un po' più linfatici nell'apprendimento, sono più lenti. Però fondamentalmente sono cani che bene o male si possono tranquillamente addestrare. I cani un pochino più cuociuti sono i Terrier. Jack Russell, tutto quello che è Terrier è molto più difficile addestrabile. Però fondamentalmente... E i meticci come? I meticci dipendono un po' dall'origine, dipendono dall'incrocio che c'è stato. Eh, Dube? Cosa ne pensi? Seduta? Ecco, seduta. Il mio cane neanche se gli porto poltronne so fa si siede. Per lei è la prima volta a venire qua, ecco perché poi alla fine vedete anche quando mi capita andare sul set, io parto molto prima per abituare il cane all'ambiente nuovo, perché il cane si deve abituare. Tu puoi avere un cane super addestrato ma in un ambiente nuovo è come se cominciassi da capo, perché ogni lavoro deve essere generalizzato, non si può... perché se tu lavori in un... ti faccio un esempio, se si lavora in un campo... io sono... ho avuto per tanti anni un campo addestramento, ora lavoro a domicilio, ho notato che rispetto a prima ormai i cani ce li hanno tutti in casa e la maggior parte hanno un sacco di problemi, ansia da separazione, viziatissimi, io adesso non so quanti di voi fanno dormire i cani e fanno dormire il cane sul letto, tantissimi errori che poi si pagano, perché il cane automaticamente bisogna trattarlo da cane rispettandolo e chiaramente cosa succede? Che poi rispetto a 50 anni fa il cane di oggi ha più problemi rispetto a prima, perché una volta il cane era legato fuori in modo sbagliato, mangiava gli avanzi che c'erano, però era trattato da cane, oggi il cane è umanizzato. Quindi il cane va trattato da cane? Assolutamente sì. E' Dube? 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 Seduta. Facciamo un applauso a Dube e a Massimo anche. Guardati qua, Dube. Dube, guardati qua e saluta il pubblico. Saluta. Ecco. Sì, certo. Ti do il microfono, Massimo. Sì, è una brava cagnetta. La padrona è L'Orella, comunque. Eh, Dube? Sì. La padrona ci lavora tutti i giorni, dunque anche con la padrona. La padrona è L'Orella. Dov'è L'Orella? Vieni qua, L'Orella, che ti presentiamo. L'Orella, Ubi dice anche a te, quindi? Sì, anche a lei. Quindi anche tu se le dici... Vedi molto la data L'Orella. Ecco, giù. Vedete già il rapporto... Ecco, bene. Anche... Si va a portare anche da L'Orella. Guarda che comodo, eh? Bella la vita, eh? Eh... Eh... E la guarda, e la guarda. Dietro. Eh, che bello. Anche da Trena. E davanti. Ecco. Gira, 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 gira. Eh, vabbè. E andiamo. Opa, salta. E salta. Eh no, no, no. Certo, certo, certo. Bene, Massimo, grazie. Grazie. Eh, se ti fermi e poi ci raccogliamo... E poi parliamo anche di cinema. Non so, il... La Cagnetta, se può stare qua con noi. Se vuoi... Se vuoi lasciarla fuori, lasciala fuori, eh? Al limite da una morsicata del conte, non è un problema. Bene. Una bella cosa, no? Eh? Oh... Vieni, Valentina, vieni. Allora, Valentina, ci fai una o due adesso? Adesso ne faccio due. Due canzoni di Valentina, se la regia è pronta con le basi. Il microfono va bene quello di arancione? Chiedo alla regia. Sì, va bene quello arancione. Cosa ci presenti? Eh, come prima canzone vi presento a Radar Goblind, dietro a James, però rivisitata da Beyoncé. Rivisitata da Beyoncé, ok. Signore e signori, Valentina, Giamboi. Grazie. Don't control me. Grazie. 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 di gestone spoiler spoiler valentina giamboli al salotto grazie 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 brava brava grazie che bella voce brava bravo lei è di Torino ma ha forti legami con l'Alessandrino perché insomma ha partecipato a vari concorsi organizzati dal nostro amico Benedetto Gerardo che è là in fondo e quindi hai partecipato delle gare anche qua hai vinto qua? sì non me lo ricordo ma sì che sei andata comunque sicuramente bene accomodati ti riascolteremo ancora tra poco e poi ti lasceremo andare domani mattina in scuola o hai l'esenzione salotto devi andare? che materia hai domani mattina? domani è mercoledì sei preparata? sì sì no domani è mercoledì cosa c'è? prima ora matematica seconda italiano poi c'è l'intervallo e andiamo a fare sport cosa fate di sport? quello che capita? ma c'è musica? c'è musica nelle? sì musica però la facciamo dopo facciamo sport e facciamo pallavolo ah e poi torniamo non devo in mensa prima ora facciamo musica seconda ora inglese pomeriggio prima ora musica seconda ora beh musica siamo forti sì 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 è la materia preferita è? è la materia preferita e poi l'alteggio e grafia bella la risposta eh? Pierangela Pierangela buonasera Anita buonasera Massimo mi seggo ecco brava è brava è bravissima bravissima senti ho detto bene da Milano com'è che ti sei innamorata nel Monferrato? perché è bello è bellissimo gli uomini del Monferrato di cui abbiamo c'è un uomo davanti all'olio ecco è vero allora sì ecco bravo no no com'è che sei capitata a Olivola no a parte a parte gli scherzi no a Olivola ci sono capitata perché sai i tempi belli quando sei giovane hai pochi soldi e c'è uno solo che ha una casa in campagna cosa succede? che tutti ne approfittano non ha la casa in campagna ed era Olivola che era vicino Madonna dei Monti a Madonna dei Monti Ottilio ottilio e abbiamo detto beh adesso la casetta ce la facciamo noi abbiamo fatto questa piccola casa che poi abbiamo ingrandito e poi ho piantato un ulivo ho detto però non ci sta bene non è ancora morto guarda non è ancora morto poi ne ho piantato altri due o tre tutti in famiglia mi guardavano male ma comunque e in paese cosa dicevano? che in un posto di vine quella lì è matta che in un posto di vine vai a mettere gli olivi sì domenica facevano le passeggiate venivano da me mi guardarono e fanno tu come stanno? tutti bene e poi da lì la produzione di olio come arriva? ti sarei detto vabbè adesso che hai fatto le olive no l'olio ce ne vuole tanto per fare l'olio tanti anni ci vogliono in queste terre non è il sud dove tutto cresce abbondante qua no sono tutti mandroni no lì sono perrini qua sono mandroni là sono perriti sono tutti un posto noi a Fubina abbiamo la sbarra sapete che non è che si può balicare così con facilità no è vero io sono scusate pensate che olivo fa 124 abitanti a oggi oggi e una sono io che sono residente quindi tutti gli altri sono sparsi beh comunque li ho messi tutti contenti tutti mi guardavano tutti dicevano quella mia è matta dopo un po' hanno come state dire però crescono bene ecco e quindi da uno siamo arrivati a 1500 piante azz 1500 piante sì che curo io curi tu davvero sono innamorata dalle mie piante quindi alla mattina io pensavo che tu l'avessi fatto solo per le fotografie perché sul sito della tua azienda ci sei tu che ho detto ma sì vabbè invece no le curi proprio tu le curo io le curo con grande amore ci parliamo ci sentiamo vedo quello che sta male vado riporto la medicina e quindi insomma tutto funziona bene come se fossero figli io pensavo che i los bucoschi fossero strani ma no no ma anch'io no 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 invece è la zona è la zona è la zona e questo mi ha portato ad essere un po' ambiziosa giustamente molto ambiziosa quindi ho bussato alla porta del sindaco gli ha detto Giani che cosa dici se ti faccio una sorpresina e diventiamo città dell'olio oh madonna no perché sapete che il Monferrato adesso è diventato un esco un esco e grandi cose col vino la via del vino eccetera eccetera gli ha detto guarda noi qui abbiamo tutto perché gli ho fatto la panchina gigante dorata tutta dorata in mezzo all'uliveto è l'unica panchina dorata a mezzo all'uliveto vengono tanti turisti a vederla sono tutti felici e contenti e quindi quest'anno il 24 di febbraio abbiamo fatto la festa della città dell'olio sono arrivati da Roma sono arrivati da tutte le parti assessori viceministri tutti i sindaci del Monferrato è stata una situazione veramente molto bella e molto commovente anche per me allora il frantoio era in Liguria adesso ti sei trasferita a Trino Vercellese adesso c'è il frantoio di Trino che è eccellente e quindi è anche perché lei lei va dal frantoista frantoiano frantoiano sì va dal frantoiano e non è che il frantoiano fa cosa vuole e no e no devi fare quello esatto fa quello che vuole lei ecco difatti deve essere franto freddo quindi non deve superare i 26 gradi la dovrei guardare mi vuole bene però ti vuole bene quando te ne vai in effetti sì sì in effetti quando hai finito no no l'acqua non deve essere calda quindi la gramolatura e nasce e nasce questo olio adesso tra pochissimo lo assaggiamo ma che che cosa dobbiamo aspettarci da questo olio intanto probabilmente che non è l'olio che usiamo tutti i giorni noi assolutamente no non è l'olio che usate sempre è quello che vi dico proprio perché l'olio per essere buono per far bene alla salute deve essere amaro e piccante questi sono i due attributi massimi dell'olio se invece avete un olio piatto che non è amaro e non è piccante però è grasso è solo grasso quindi non fa altro questo invece come tutti gli oli extravergine d'oliva hanno i polifenoli famosi che fanno bene al corpo c'è un signore che mi ha detto io la mattina mi faccio sempre un cucchiaino di olio ottimo è il miglior nutraceutico che voi possiate introdurre nel vostro corpo quando vi alzate perché perché parte dalla gola e voi sapete che il nostro apparato digerente parte da qui dalla masticazione eccetera quindi va giù va nello stomaco vi fodera lo stomaco arriva nell'intestino nell'intestino voi sapete che cosa fa lubrifica tutto ecco e quindi voi avete un procedimento un processo che è perfetto dopodiché l'olio deve essere però assolutamente buono perché altrimenti è solo un grasso e non vale la pena quello che diceva lui fra il vino che ti fa bene che ti fa il vino che ti intossica il fegato c'è una bella differenza tra l'olio che è solo grasso e l'olio invece che diventa un nutraceutico voi prendete tutte le vostre pirrolette le buttate via e riprendete l'olio vi va di gustarlo di assaggiarlo vi abbiamo convinti allora ci cade a mano e allora noi abbiamo abbiamo già primo marinho che è in cucina col cappello da cuoco vai a dargli una mano tra poco arriverà l'olio se qualcuno poi ci dà una mano a distribuire siamo ben contenti voi dimmi dimmi abbiamo molto apprezzato tutti questi i paesi del Monferrato dell'astigiano che fanno le panchine noi a Serralunga invece abbiamo fatto le brandine che si può stare in due e da lì da cosa nasce cosa quindi noi siamo per le brandine del Monferrato va bene le panchine per l'amore ma la brandina anche perché la facciamo chiusa che nessuno vede e quindi ma sono brandine giganti o la brandina l'hanno già scoperta e poiché la panchina è molto grossa è molto larga è molto alta se ne approfittano però guarda ti vorrei invitare sulla nostra brandina tu porti l'olio noi portiamo il vino noi in due e te da sola facciamo due contro uno perché con le donne perdiamo noi ti aspettiamo sulla nostra brandina vieni e invece Roberto a Castelnuovo Scrivia avete tipicità cosa sì diciamo che l'agricoltura è stata molto da sempre molto fiorenta oggi come dappertutto possono essere dei problemi perché l'agricoltura non c'è una zona di orti tradizionalmente sì oggi forse un po' meno devo dire che però in passato era molto fertile il terreno quindi sull'oliveto non ci arriviamo però nel vino sì adesso c'è qualcuno intelligente verso per chi è pratico verso OVA che è una nostra frazione quindi verso sale come dire è un'erede del marchese cosiddetto marchese di OVA che noi l'abbiamo che esiste è una persona che esiste e ha questi grandi terreni io sorrido perché noi proverbialmente quando c'era qualcuno noi avevamo questa fama castenovesi di essere un po' avari e quindi e di vera è una fama in cui ti riconosci o sei i ciululoli no no non facciamoci conoscere Buscoschi no no si lubrificano si lubrificano sì certo dice scusa Roberto va bene qualunque interruzione no probabilmente un po' sì perché dietro a certe diciamo nome qualche cosa c'è personalmente non mi riconosco perché mi salvano le origini lombarde e quindi sono ma vi sentite un po' lombardi a Castelnut noi già ci sentiamo molto più lombardi che piemontesi perché siamo a due chilometri due chilometri e mezzo con la provincia di Pavia in direzione di Casai Gerola quindi in realtà persino nel dialetto io quando vado in giro mi hanno dato dell'emiliano lombardi mai nessuno del piemontese ecco quindi ma questo viene detto da sempre è un immigrato un immigrato ti diamo il permesso di soggiorno sul vino questo marchese di Ova che diceva visto che noi siamo un po' vari quando qualcuno faceva lo spendacione temi al marchese din lua quindi non sei mica il marchese di Ova come è che si dice che sei novese temi al marchese din lua cioè il marchese di Ova din lua ok però ecco sta lui riuscendo in un bel esperimento che ha questi vignetti molto pregiati e questa zona praticamente delle mineralità io ovviamente non sono un tecnico quindi però insomma mi dicono così e in effetti poi lui vende il vino anche all'estero con grande successo quindi vino di pianura sì esattamente ma anche in passato anch'io ricordo delle vigne soprattutto in certe zone molto bocate io stesso avevo assaggiato del vino che in effetti è molto robusto molto ah quindi è robusto anche un vino che non in terreni che ormai purtroppo lo coltivano tutte le vigne ormai la vigna come sappiamo richiede molta cura quindi gli agricoltori poi non l'hanno mantenuta fanno alte coltivazioni però chi le ha salvate poche ormai questo qui invece si è sviluppato questo marchese e quindi lui riesce a vendere il vino con ottimi risultati poi dopo raccontiamo poi dopo raccontiamo nei tuoi libri ma adesso volevo sapere Castelnuovo Matteo Maria Bandello grande scrittore riconosciuto insomma a cosa si deve? riconosciuto molte volte più all'estero che in Italia e soprattutto da noi come sempre accade nessuno è profeta nel proprio paese esiste questo centro studi da qualche decennio che si preoccupa proprio della promozione diciamo che Matteo Bandello normalmente è presente in qualunque antologia della letteratura italiana insomma adesso poi che ci siano 20 pagine 10 o 2 però normalmente non è assente perché è sicuramente uno dei più grandi di narratori del Cinquecento Trattolo Castelnuovo scrivia che ha un'altra particolarità un castello di pianura e dalle nostre parti i castelli ci sono la provincia di Alessandria sapete è una zona molto castellata è una delle più castellate d'Europa se non la più castellata d'Europa come densità di castelli del territorio ma sono quasi tutti in collina poi c'è Piovera c'è ce ne sono altri Pozzolo però gli altri sono generalmente in collina e invece c'è un castello bellissimo tra l'altro Castelnuovo diciamo che ha una storia molto interessante e prestigiosa diciamo nei secoli era più importante di Tortona per esempio ecco poi via via le cose cambiano insomma però diciamo che Matteo Bandelle non solo la fortuna di Castelnuovo attorno appunto a quel periodo quindi siamo nel rinascimento ma poi si è spinto anche per un po' dopo c'era la coltivazione del gualdo che è l'erba tintoria che da cui si ricavava poi l'indaco e quindi il blu infatti i blu jeans ecco erano anticamente colorati con questa erba tintoria poi le erbe tisose e lì a Castelnuovo c'era questa coltivazione ah guarda quante cose si scoprono e quindi era fiorentissimo molto redditizio come poi nell'ottocento la coltivazione di bacchi da seta poi ovviamente i tessuti voglio dire artificiali e via via insomma hanno poi e così la chimica ovviamente ha soppiantato adesso c'è un recupero molti quindi c'è una ricchezza siete stati mi permetto di dire siete stati ma magari siete ancora un paese ricco comunque certo e l'essere un po' terra di confine aiuta ancora oggi così anche dal punto di vista se vogliamo anche religioso storico nel nostro territorio che ormai siamo 4800 abitanti però fino a 30 anni fa eravamo circa 6000 abbiamo 15 chiese praticamente quasi tutte funzionanti 15 chiese che è sapete cosa fare la domenica se non altro sono quasi tutte chiuse però ben conservate quindi questo è una cosa che ci fa onore perché normalmente molti posti hanno le chiese principali le parrocchie in decrepite noi abbiamo anche delle chiesette campestri invece perfettamente ristrutturate bene com'è buono buono se c'è qualcosa che non va ditelo che facciamo facciamo dibattito è buono poi se ne arrivasse anche due pezzi qua no vescovo no no Gianni Nesto vuoi un cabaret di olio si Gianni lo pre voi Bukowski sono venuti qua apposta non ha no dovevate ce n'ha comunque vedi dimmi dimmi speravate anche nel vino e non ti vedi dovevate portarlo voi dal Monferrato io non ce l'ho nemmeno io guarda guarda Massimo quanti spunti ti ho dato per le prossime manifestazioni del centro di Alessandria addestratori di cani musicisti cantanti insomma c'è olio guarda che se fai la degustazione di olio non l'ha ancora fatta nessuna a parte il salotto del mandrogno senti invece le prossime manifestazioni che avete in cantiere allora prima di tutto la città nostra la città nostra la città nostra ci sarà il famoso vino Alessandrino anche certo famosissimo se posso spendere due parole sulla città nostra prima di perché secondo me è fondamentale capire che cos'è allora questa questa cosa qui nacque mangiate in silenzio nasce dal fatto da un'idea che è nata da me e una ragazza che ha un negozio in via San Lorenzo che si chiama Carlotta e erano lì dice ma c'è Natale cosa facciamo? allora intanto scusate Massimo ha un negozio no 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 vabbè per dire che non è che sei piovuto qua dal cielo ha un negozio di abbigliamento in via Modena prima era in via Milano adesso ha cambiato città e quindi in via Modena sì va bene e niente siccome c'è sto modo di dire che è anche abbastanza noioso che i commercianti sono sempre lì che vogliono prendere allora io ho detto ma qui diamo qualcosa e allora nel nostro piccolo abbiamo pensato di di donare alla città degli alberi di Natale che poi insieme poi all'assessore al come si chiama al commercio abbiamo cercato di capire dove metterli come fare facendo questo mi ha presentato una persona che si chiama Lorenza Vitale che poi diventerà il presidente di questa associazione che ci ha aiutato ad addobbarli invitando le scuole quindi creando una bellissima sinergia tra ragazzi commercianti e cittadini perché poi cosa è successo questi alberi sono stati addobbati anche dai cittadini che scendevano mettevano la loro pallina mettevano quello che e poi da lì in poi è nata tutta sta cosa qui passa Davide Valsecchi che per chi non lo sapesse conosciamo per essere stato ospite al salotto è uno dei pochi che ad Alessandro ha fatto veramente una roba fatta bene 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 che era aperto per cultura la prima edizione e niente da lì ha visto un entusiasmo che da un po' non vedeva perché comunque c'erano commercianti cittadini ragazzini delle scuole tutti per strada e da lì ha pensato bene di mettere insieme le forze e creare questa e da lì è nata poi questa associazione che si chiama appunto la città nostra che viene da un libro di Basile sindaco certo non so se che praticamente la città mia la città mia e da lì noi l'abbiamo definita senza volergli prendere nulla scusa Massimo ti stiamo passando avanti col vassoio fate pure tanto io parlo non si parla buon capire mangiate chiamo anche i cameraman che sono qua che sono gli unici che stanno lavorando seriamente da lì è nato poi tutto e da lì è partito questo progetto che è sia sociale che commerciale alla fine però la parte principale è questa unione tra cittadini e commercianti questo centro di Alessandria ha bisogno in effetti ha bisogno sì ma ha bisogno tra l'altro scusami tu sui social perché io ti seguo sei uno di quelli ma io sono d'accordo con te che sei per la città chiusa non mi può vedere nessuno mi odiano tutti sei per la città chiusa per l'isola pedonale mi ero ripromesso di non parlare ah ok scusami sono andato dal tuo amico Don Ivo Don Ivo Piccinini e gli ho detto oh why se mi fai parlare di città chiusa città pedonale secondo te la prima domanda quello ma lui è un sacerdote quindi evidentemente tanto lui è è più in alto è più in alto no comunque dico questa associazione vuole vuole ripopolare le vie del centro per adesso è un è un discorso discorso abbastanza circoscritto a via da via San Lorenzo San Lorenzo fino le traverse e piazza Marconi praticamente perché anche lì c'è bisogno e quindi diciamo che questa associazione cosa fa oltre a partecipare adesso anche a dei bandi per acquisire dei fondi si autofinanzia col tesseramento il tesseramento è una cosa che noi chiediamo per poter avere dei fondi per poter creare manifestazioni per poter arrivare anche tipo a installare 12 palme come abbiamo fatto certo queste 12 palme non sarebbero state installate se non fossero intervenuti anche due privati che non so se li abbiamo fatto con passione però hanno detto ma noi un progetto così non l'abbiamo mai sentito da nessuno quindi da nessuna associazione da nessuna forza politica tant'è vero che noi siamo apolitici come associazione certamente e quindi abbiamo tifosi li chiamo tifosi perché ormai si tratta di tutte le forze quindi in maniera che da non poter andare a dire ti ha aiutato questo ti ha aiutato quello e questi due signori ci hanno aiutato tantissimo anche noi tifiamo perché Alessandria si dia da fare poi parliamo anche del legame con le altre associazioni perché è un momento in cui in città e su Borghi c'è un po' di la girata frega al microfono la girata frega al microfono va bene voglio sapere come sono nati i Los Bukowski allora è una storia lunga che risale io ho 77 anni 20 li ho persi quindi le ho 57 20 li scappammi gli perdigli a fare dal baccati tra cui tra cui passa il tempo a sparare dal baccati perché noi in Monferrato abbiamo il vino abbiamo l'olio abbiamo le brandine dove dove stiamo tanto insieme con le nostre mogli ultimamente uomo e uomo donne e donna va molto di moda ci ha un po' spiazzati perché noi siamo tradizionalisti però si fa però è nato tantissimo tempo fa quando lui come direbbero da noi Kiel 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 Torino era convinto l'era convinto da se aveva il suna ha preso una tastiera mi ha telefonato mi ha detto la dimmi Moroide si perché lui è delfino io sono Moroide ma è intercambiabile perché a quell'epoca lì uno dei due soffriva di Moroide e allora è nato quel nome e poi in base a chi soffriva in quel momento guarda che delfino è quello deve essere quello intelligente eh lo so lo so però comunque abbiamo suonato il nostro primo concerto l'abbiamo fatto io e lui in una pizzeria no? e costava 100 mila lire l'amplificazione noi abbiamo raccolto le offerte ne abbiamo raccolte 99 mila lire abbiamo detto la strada è spianata se ci danno 99 mila lire in pizzeria non possiamo che andare avanti abbiamo fatto un mucchio di strada e abbiamo aperto i concerti di Donatella Rettore da buon la conoscete? Gio Squillo Gio Squillo Gio Squillo poi no il Bluesman Travis Bluesman Alberto Camerini un mucchio di gente nella nostra storia io e lui abbiamo fatto tante cose interessanti tra cui anche fare le cassette una volta abbiamo fatto i video le cassette C60 ricordo un po' il primo la prima cassette come si chiamava? live 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 in Mumbai live in Mumbai live in Monbello poi abbiamo fatto live in Pusang 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 frazione di Cerrina giusto? poi siccome l'Alzheimer galoppava live in Mumbai 2 live in Pusang 2 e poi siamo arrivati l'anno scorso grazie a dei musicisti guardateli eccoli vittore dei vittori stefone stefone mi ha detto facciamo una band allora però tutto è nato tutto è nato avete sentito che chi si interessa un po' di musica adesso che sono tornati i cccp fedeli alla linea quindi io prendo un po' questa frase di Ferretti che ha detto siamo stati una cellula dormiente per quasi 30 anni e a noi è successo più o meno così sono stati una cellula dormiente per quasi 30 anni e continuo a dromi no? invece c'è una propulsione e poi invece l'inverno scorso lui mi dice ma senti io manca non puoi dire io manca niente da fare andiamo mettiamo giù questi pezzi che facevamo una volta facciamo un disco vuoi dire è l'Europa che ce lo chiede ce l'ha chiesto esatto è sempre l'Europa allora abbiamo fatto abbiamo fatto questo disco abbiamo fatto questo disco poi abbiamo detto ma perché perché l'abbiamo presentato è venuta tanta gente perché non mettere sotto dei musicisti che chiaramente non stanno al nostro livello sono altri pensate voi conoscete Bruce Brinsding Bruce Brinsding Bruce Brinsding è uno che fa tre ore di concerto con sei bis noi facciamo un'ora di concerto con venti bis quindi siamo avanti sempre lo stesso pezzo e raccontiamo le storie dei nostri paesi i nostri paesi però ultimamente sono per fortuna contaminati da tanti ragazzi di nuove generazioni che vengono da tutto il mondo e ci portano delle grandi novità per esempio a me e lui hanno sempre chiamato Gamberetto il nostro amico Abdul l'hanno chiamato Siluro e io non ho mai capito perché chissà le nostre amiche si chiamavano Gamberetto e Siluro e allora noi abbiamo scritto una canzone perché nei bar si parlava di questo Siluro chissà come mai chiederei ai nostri amici musicisti che vengono a qui e noi se ci lascia il nostro amico Massimo Brusasco che ha tanto coraggio che ha tanto coraggio vorremmo cantare questa canzone allora questa canzone ragazzi noi come ragazzi di una volta una cosa che adesso i ragazzini non fanno più vivevamo al bar cioè il bar eravamo delle vere mosche da bar cioè uscivi da scuola mangiavi andavi al bar poi andavi a giocare poi ritornavi al bar e al bar ascoltavamo tutte queste storie della gente che giocava a carte le storie di paese poi le pompavamo all'ennesima potenza scrivevamo queste cose in dialetto ovviamente ovviamente esagerando però questa è la storia di un tipo che forniva delle prestazioni extra perché aveva delle misure extra e allora abbiamo scritto questo pezzo che si intitola Che usè e dopo tanti anni anche ai giorni nostri abbiamo trovato questi ragazzi questi giovinotti che li chiamano Siluri che a noi fanno veramente un po' ci mettono in disparte però dedichiamola a loro signore e signori i los Bukowski che cantano che usè chi lascia ma Pietro egli ha quasi lunghi metro le nascì a la mattin all'abbas a trenta centim le nascit la stala mes al pacchie i cravum fino al bestie e poi ci mettono in un'altra non è finita qui lui era piccolo era piccolo era piccolo la danza che ha portato la fine a Francia al dottor agli acquisivi e chi la rinforzano in un'altra e chi la rifettiva che usè che usè le ferra dal normal che usè che usè potenza che usè che usè Stefano De Stefanis di Torni di Stori Bukowski grazie noi siamo l'unico storia vera l'unico spettacolo che passa da grazie da bandello a che usè è una storia vera è una storia vera capite come eravamo messi no? eh sì anni anni Bukowski è stato il mondo un giorno verremo a suonare qui tutte le nostre canzoni tutte vabbè ma sono poche quindi va bene abbiamo almeno 200 allora come è andata? tutto bene? a posto? sì allora io vi ho messo degli altri vassoi con pane e olio lì sui tavolini quindi potete servirvi uscendo fate incetta buonasera Sergio poi sentiamo la nostra amica Valentina allora Sergio Pizio eccoci qua dopo questa esibizione incredibile è dura sono cose sono cose sono cose che rimangono è queste tipo tipo il squallo ecco comunque comunque devo dire che sono cose che fanno tutti nelle case queste qua tutti le sanno tutti le pensano esatto dobbiamo solo stoganarle chi vuole del coraggio vai tranquillo come avessimo cantato al bacchiare di Vasconosi vai tranquillo uguale abbiamo anche quella uguale 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 allora Sergio abbiamo detto scrittore seneggiatore raccontaci di te sì allora io ho scritto tre libri anzi quattro sono dietro al quinto poi una sceneggiatura finita di un film come dicevo appunto prima che riguarda purtroppo il gioco d'azzardo questa brutta malattia e quindi si sviluppa tutto tutto il racconto adesso volevo dire come nasce una sceneggiatura la sceneggiatura adesso qui abbiamo anche lui che scrive tanti libri quindi la sceneggiatura è diverso che scrivere un libro è diverso praticamente si può partire da un racconto si può partire oppure è di fantasia cioè nel senso che uno si inventa di stana pianta un racconto e poi da questo racconto viene strappolata proprio la sceneggiatura che cos'è la sceneggiatura praticamente sarebbe la spolpatura di un racconto faccio un esempio mettiamo poi il caso che i protagonisti entrano in questa stanza quindi poi si resista a decidere se in questa stanza c'è un divano o c'è una sedia lo scopo dello sceneggiatura è questo soprattutto i dialoghi quando entrano i protagonisti discutono tra di loro si guardano un po' attorno non ci deve essere niente magari possono essere attratte dal quadro ma il quadro deve avere uno scopo ben preciso all'interno della sceneggiatura quindi è un racconto proprio stringato con moltissimi dialoghi e pochi effetti che possono distorgere l'attenzione poi quello che succede la sceneggiatura si propone a regista e regista insieme allo sceneggiatore e discutono insieme di questo scritto allora si incomincia magari a limare qualcosa magari a immettere un qualcosa nella sceneggiatura oppure a togliere e magari allungare o diminuire i dialoghi i dialoghi sono importantissimi ma soprattutto i dialoghi le scene quindi c'è l'inquadratura che poi il regista va a identificare magari l'occhio del protagonista o l'alzata del sopracciglio che vuol dire tantissimo che magari sollevare un sopracciglio vuole dire magari molte parole cioè si fa prima a inquadrare l'alzata di un sopracciglio che magari non ha bisogno di tante descrizioni però è molto diverso scrivere il libro io vengo dalla scrittura dei libri quindi anche del paranormale che amo moltissimo quindi anche del tri paranormale cioè esperto di paranormale diciamo che qua sei nel tuo no no qua ho visto l'ora mi sono creduto che esiste davvero noi siamo sub c'è vita c'è vita c'è vita c'è vita c'è vita oltre sera lunga no no va bene così c'è vita oltre sera lunga si vuole questa sfarzata di gioia di allegria altrimenti la vita è piatta e quindi appunto come dicevo anche adesso non so anche dal territorio il libro che ha scritto lui sul territorio è logico si può fare anche una sceneggiatura lì diventerebbe poi un film documentario che parla dei territori certamente e quindi invece la scrittura creativa è già diversa cosa vuol dire creativa vuol dire immettere magari non tanto della fantasia ma immettere anche delle immagini e sottoporle proprio a un dialogo più accurato io sono io stavo guardando il cagnolino che sta lì e non si muove è incredibile si sta facendo la cacca si è emozionato si è emozionato Sergio dai il picrofono a Massimo un attimo che c'è anche il cane posseduto che è molto posseduta dunque faccio degli esorcismi cane padrone come vedete il cane è messo abituato vedi in contesto nuovo situazione nuova ha già chiesto di venire la prossima volta anche si è già abituata dove tutte le volte diciamo nel momento che si è abituata poi tranquillamente puoi lavorare il cane mi volevi chiedere poi poi parliamo di film ma prima scusate io devo congedare Valentina perché domani a scuola a Torino studi vero quindi abbiamo un po' di viaggio da fare e allora ci ascoltiamo ancora una canzone mi raccomando guarda che lo sbucoschi va bene ma noi vogliamo sentire Valentina dimentica tutto quello che hai sentito stasera e vai per la tua eh mi raccomando Elisa no Sola di Nina Zilli ah una scusate una canzone di Nina Zilli non ho capito il titolo Sola ah Sola di Nina Zilli Valentina Giamboi a salotto vai vai Sola e gli altri ballando mi piace a fare di male e ricordare la pace Sola anche prima di dormire anche di fuori piove e io e io neanche quando ci sei tu non sei più e sei oltre tu ora vai capirai che non ci sei dato ma io vorrei dare a te quello spazio che ti serve ma non sei questo blu questo blu Sola e gli altri ballando e così che andrà a finire tutti e di storia quelli come me ora dentro di ti è meglio se tu ora vai capirai che non ci sei stato ma io vorrei dare a te quello spazio che ti serve ma non te questo blu questo blu blu che non ci sei stato mai che vorrei dare a te quello spazio che ti serve ma non te ti oierai ti anterai mi canterai mi reggerai ora e che dobbiamo dire Valentina e Giambone ti fanno ridere ti fanno ma andiamo non fate ma vai educati questa è la canzone che hai cantato a The Voice a The Voice e ti hanno e ti hanno preso con questa canzone sì e allora siamo contenti che sei stata con noi al salotto del mandronio oh grazie naturalmente non ti vogliamo andare via io non so che orari hai che ora inizia la prima ora domani alle otto e mezza beh allora c'è tempo dai allora giustifico io vieni vai dall'insegnante e dici che lo spuccoschi moroide e nel fino roi dottor del professor del fino fanno la la giustificazione se vuoi per parte con noi stai devi andare come vuoi tu come vuoi qui stanno facendo segno doma la sgaggiaia dobbiamo andare dite non mezz'oretta un'ora sediti lì dai con noi ho deciso io no deve andare la signora io siccome vedo vedo vicino e la signora vedo che fa dei gesti io ho visto se ben interpretato ha fatto così così e poi così quindi sì la sta qui giusto è vero senti poco che lì Valentina senti allora tu pensavi che le pollie fossero finite e invece no perché noi dobbiamo pagare la nostra tassa e la paghiamo anche questa sera con Gianni Pasino che non è da solo perché la tassa è doppia c'è anche Cristina Saracano buonasera 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 ben no ben no buonasera come va Pasino come va ma bene diciamo che va bene sì va bene ti sei visto un po' nello Sbukowski tu o no no non molto per i capelli i capelli ah beh per i capelli sì no diciamo che oppongo opponiamo il dialetto alessandrino voi avete fatto il vostro monferrino adesso noi 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 parliamo di primavera e di e di dolori non parliamo di sesso allora ecco sì ok grazie che se vi può interessare sempre approfondire il dialetto così per non perdere la tradizione locale culturale in cui noi crediamo il venerdì prossimo il 15 marzo saremo io Gianni con questi siparietti così ma anche ci saranno anche altri ospiti al museo etnografico della Gambarina c'era una volta di piazza Gambarina ad Alessandria per una serata dove si ricorderà Sandro Locardi dove c'è anche una mostra allestita proprio su di lui allora c'è una mostra alla Gambarina che è stata allestita in collaborazione con Marco con Marco Biorci che che era qua prima che era qua prima non so se lo Sbucoschi l'hanno fatto scappare l'Andascia Drumi comunque andate alla Gambarina ci sono gli iscritti di Locardi e venerdì prossimo ci siamo noi un'altra serata di Alettale che fa seguito a quella di venerdì scorso esatto dove c'è stato molto bravo con gli amici di Lissondria Dess che sono venuti esatto organizzato dall'associazione Lissondria Dess che loro ho visto lo stesso prima ci sono ci sono ci sono ci sono prego 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 allora noi interpretiamo l'avevamo già fatto in alcune altre serate del salotto Berto e Nora sono due persone diciamo che si danno delle arie da forbiti da colti colti e tutto poi in realtà sentirete insomma che decollano nell'Alessandrino è il mattino ad Alberto il dolce mattino di metà marzo già una timidezza di sole pallido sul cielo lontano Leonora sul cielo che piange a tratti lacrime di pioggia guarda ad Alberto guarda gli incredibili colori della nuova primavera respira Leonora il vago odore dell'estate è già nell'aria e gli uomini che cosa dicono gli uomini di fronte all'iridescenza della bella stagione cagmessa feco di disu ottusi insulsi privi di fantasia non vedono che quello che si vede non sentono che quello che si sente gli uomini non vibrano ad Alberto noi invece mamma mia come vibriamo Leonora che infelice saresti se anch'io fossi come gli altri e che infelice saresti tu se anche io come tutte le altre donne ti amareggiassi la vita con femminili luoghi comuni ma noi siamo diversi Leonora abbiamo saputo elevarci lasciando le banalità i banali le ottusità agli ottusi peccato che peccato dover distogliere gli occhi da questo panorama marzolino è un vero peccato eh ma il lavoro mi chiama eh il lavoro è un richiamo alle cose terrene vado ad Alberto ti lascio solo con te stesso se se va Nora va pira ah schismi fammi un piacere per me in cachet hai un po' di malatesta anche te perché anche te te l'hai eh ma io sempre malatesta ma mi lamenta ma nessuno mi ha lamentato ma tu non mi ha a me in cachet guarda io che chiamo in cachet ti lamenta senza farlo vedi no i nomi che vogliono te fai preoccupare sua moglie e il va da là uspea il suo cachet e lo stacito guarda Nora me andrei vado da là a piemi il mio cachet ma se sei andato ruoli anche i segni anche i sicchi o un tucce a piemi dimmi un po' eh spiritus tei propri spiritus i cachet sono sempre stacce anche il medesimo post anche la stanza da luce anche la gioiera ah e robi preziosi preziosi rubati ma robi d'oro e te ne andando da quei ladri pure un entamni mh anche il bife del medesimo ma ma a me allora la notte passaglia se che io piacere un drumentame ma perla ma preoccuparti niente le mie perle sono tutti tifosi ma guardate che robi vabbè poi mi spiace ma piacere va anzi ho appena l'aspirina a casa a un fassi bite fette eh beato te me amlattino fino o di dopo vabbè a vaga piatti l'aspirina anche se io ho un dolore da si dentro un pardo da chi arriva fino al fondo della cavigia ah ma io non c'è ma di andare a fare qualcosa per farmi passare eh che puoi dire a me eh arriva niente essi compatibile da te per ne spaventetti ma io proprio non amare sai sai vengono in quel momento che ti fai i massaggi ma no la stessa questa acquataia non mi ha la schiena ma no eh sì non manca fino il fiato il vostro pobra donna però te la diventa eh no 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 te te me la devi dire perché per fin capire se io spuso una donna ho il reparto geriatria d'ospedale eh dimmi ma sai dimmi se io ando che se io ando che le scese che vaga prima di me no no vaga me ambiti i guant e a vag i guant perché i guant sì perché sono allergica a questi tipo mezze che si chiamoli antipiretici è un croco a fine la pelle del mondo eh vabbè vabbè ma non te lo non ti dici per niente più testi non ci sassi comunque a vag ando che l'è il paracqua il paracqua il paracqua il fa da baston per te mi si ma fa proprio tanta massa gamba ma non è niente la gamba il macadì non è niente in pè ma vaga in terra il macadì fa svenire per chi non lo sapesse ma roba di madre ma a me io ho l'impressione che te staghi proprio ma no ma no sono stipidati degli anni che sono piaci a sé e le perché sta schissa tra di niente per niente fai preoccupé perché se vi si ha detto i propri titoli ma perché niente ancora no la parla se te ne scondi se te hai se te senti ma che a me facciamo tutto no no lascia perdite no no lascia perdite a voi che alvena chi si abita visite ma no sono niente a moribonda no a me bisogna stare tranquilli che io vado tutto ti ti devi chiedere a tu dici no e crea niente se no viene anche surda e me dica a te adesso alciamo e di calvena chi si abita stamattina po' di tempo dopo è il mattino da una timidezza di sole pallido sul cielo lontano respira leonora l'odore dell'estate che è già nell'aria guarda dolce aria ma fino a passare la testa guarda pronto penso che apri il telefono facciamo facciamo il dottor le ore pronto dottor si sono bene sono pazino si 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 ecco ecco per forza, se si chiamà prima invece che fai tante storie tanto te, ma la testa ti è passata me sa che ti dico che te, te ineguista, pensi a me per te e vai grazie eccoci qua con Nora e Berto allora Valentina, ti dobbiamo salutare ti abbiamo fatto patire anche questa ultima cosa ti abbiamo fatto apprezzare anche Gianni Pasino facciamo un applauso a Valentina, ci vediamo presto grazie Valentina Gianboi, ciao arrivederci ci dici come si addestrano i cani per il cinema e poi ho un'altra tassa da pagare ah sì, ok beh innanzitutto quando mi capita di preparare i cani per il cinema sono cani fondamentalmente già preparati in un'ubbidienza di base la differenza è che sul set cinematografici è tutto un altro ambiente tutta una situazione un pochino più complicata perché chiaramente i cani si devono abituare all'ambiente e devi saperti muovere sul set perché comunque ci sono tante situazioni ci sono tante persone che girano il cane deve essere abituato a vedere tante persone dal dal regista, dal inutocameran, dal microfonista assistente alla regia di conseguenza un cane che più spesso lavora sul set diventa sempre più bravo abbiamo qua l'esempio di Dube se continuasse a venire qua sicuramente farebbe sempre di più esercizi sempre meglio lavorare sul set non è facile diciamo che comunque quando mi capita di andare sul set ho sempre dei cani fondamentalmente o dei proprietari che mi capita appunto di prenderli lavorarli e poi prepararli dietro un copione dove faccio recitare il cane oppure i miei cani però normalmente sono sempre cani che prendo dai clienti in base al regista a quello che mi chiedo tu mi hai detto una volta rifacciamo spesso le scene perché al cinema è così ovviamente però sbaglia più spesso l'attore che il cane sì perché fondamentalmente il cane quando ti prepari la scena bene o male il regista capisce anche la situazione e in qualche volta è un po' comodante però normalmente mi è capitato di vedere situazioni in cui il cane recita subito il primo ciac e poi invece molte volte quel ciac lo devo rifare perché chiaramente l'attore ha sbagliato e chiaramente in una situazione perché il cane durante le riprese l'anno inizio ha un rendimento molto alto poi cala ecco perché cerchiamo sempre di fare le riprese abbastanza veloce perché poi il rendimento del cane si abbassa e diventa tutto molto più difficile ho capito quando vedremo il film con la Binoche? dovrebbe uscire adesso Ritorno all'Odissea dovrebbe uscire in questi mesi qua dovrebbe uscire adesso a febbraio ma penso adesso tra aprile dovrebbe uscire Coni e hai altri appuntamenti? ma adesso sto preparando un nuovo film con un regista che si chiama Filippo Capuano uno scendatore si autoproduce ci sono diversi cani tra cui un English Taffo Charbultere non so se sapete come si chiama? un English Taffo Charbultere sono quelli brutti, piccoli tipo i pitbull e poi ci sono diversi meticci dove e due barboni giganti dunque un film che sarà abbastanza impegnativo perché durerà molto girerà un po' per l'Italia e niente bene volevo solo dire una cosa se mi permetti volevo dire una cosa che non so se ve lo sapete io ho vissuto un po' di anni in Svizzera a me ci tengo a precisare tutto questo fatto di cronaca che è successo di questi due Rottweiler io vi voglio dire una cosa importante un mesetto qua più o meno della Svizzera in Svizzera italiana ci sono l'obbligo dell'addestramento delle 30 razze pericolose quelle pericolose se tu hai la pedina finale sporca non puoi prendere né un pitbull né un Rottweiler e devi fare un corso che dura un anno superato l'anno devi dare un esame questo esame consiste che tu magari sei a passeggio col cane passa uno in bicicletta il cane non deve partire sulla bicicletta uno che corre non deve partire su una persona che cura lo lasci libero deve tornare se superi l'esame ti lasciano tenere il cane se no devi ridarlo se in Italia ci fossero perché mi capita di vedere situazioni di cani mal gestiti perché quel fatto di cronaca di rubare non è colpa dei cani lì è la mal gestione dei cani perché fondamentalmente che colpa ne hanno i cani i cani fanno il loro istinto fondamentalmente ci tenevo a precisare questa cosa spero che domani uscirà questa legge anche se poi non lo so bisogna farla rispettare grazie grazie Massimo Cattino ti ho visto nel pubblico e non potevo fare a meno di chiamarti qui sul palco Serena Angelini buonasera buonasera anonimamente agghindata ti aspettavo nello Sbukowski lo sai? sei la felicità nello Sbukowski buonasera buonasera a tutti a volte ritornano prego accomodati io mi seggo qua e non voglio responsabilità alcuna che cosa succede? cosa succede? non so è il mese della donna ah è il mese della donna lo Sbukowski chi è che è? ma porca miseria fai i massaggi fai i massaggi è il mese della donna quindi? e quindi c'è l'oroscopo demenziale in pillole rosa oroscopo demenziale in pillole rosa dedicato alle donne dello zodiaco alle meravigliose donne dello zodiaco ma perché? va bene dai ok e sì sì pensavo prima di iniziare volevo dirvi che per capire la differenza tra uomini e donne bisogna pensare alla scacchiera alla scacchiera ok al gioco degli scacchi sì il re si muove solo di una casella la regina va un po' dove vuole e le dirò di più lei lo sa che google in realtà è una donna google è femmina perché tu quando chiedi un quesito a google non ti fa manco finire la frase che ti dà già la risposta ma cosa ridete ma cosa applaudite ma non è vero ma non è vero è femmina google è femmina è femmina va bene partiamo partiamo donne eh donne è arrivata la rutina no aspetta donne donne dell'ariete se siete alla ricerca di un uomo che vi guardi tutta la vita con ammirazione sposate un archeologo più invecchierete più affascinanti vi troverà non applaudite non applaudite c'è anche il toro immagino dopo l'ariete eh sì tora 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 care donne del toro arrendetevi non potete dire a un uomo cerca di capire piano una cosa alla volta o cercano o capiscono ma perché l'ho invitata ma sta andando bene dove era seduta ma perché fai sempre lo stesso errore casco sempre ma sono i losbukowski chiama quella lì chiama quella lì è vero eh sì vabbè dai ok amore odio chi disprezza vai è vero gemelline ok non vi ostinate a sprecare energie nel tentativo di cambiare il vostro partner ascoltatemi effettivamente in natura esistono delle donne in grado di cambiare gli uomini ma si chiamano badanti cioè gli cambi il pannolone basta devo andare avanti o vuoi fare una pausa eh sì perché io il cancro il cancro lo vorrei sentire dai però sempre cancro donna cancra no questa è brutta no cancra non mi piace granchiette 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 smettete di sperare ancora che il vostro partner ci ripensi e torni indietro non sprecate energie gli altri vi ricordano che l'unico uomo che vale la pena attendere anche lì non troppo perché poi passa l'appetito o è il camariere al ristorante le leonesse le leonesse ah sì le leonesse è tanta roba le stelle vi ricordano che essere donna vi permette di accavallare tranquillamente le gambe senza correre il rischio di schiacciare il cervello tanta roba è vero è vero non ci avevo pensato che va bene tu non pensi tu non pensi schiacci dai vergine 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 fatevi rispettare l'unico uomo che può dirvi quando dovete aprire chiudere la bocca è il dentista basta giusto questo vale anche per gli uomini in teoria bilancia la bilancia care bilancine ci vuole più autostima non accettate mai le briciole degli uomini siete state create donne non formiche ah questo c'è ecco bella è un po' fine è una roba fine questa sì 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 scorpione le scorpioncine sono molto narcise ah sì quindi cari uomini se volete davvero far sentire desiderata una donna scorpione guardatela come guardate il portafoglio del benzinaio quando l'apre per darvi il resto bello bello eh sagittario allora abbiamo le arciere l'arciere dello zodiaco se siete ancora alla ricerca di un uomo paziente e curato ma fatevi un bel giro in ospedale ce n'è davvero per tutti i gusti non uscirete deluse capricorno capricorno anche tu siete capricorno io sono pitecantropo 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 sì capricorno capricorno cari signori se una donna del capricorno vi dice amore correggimi se sbaglio no non lo fate ma figurati no 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 non è una trappola perché non lo dobbiamo fare perché è una trappola le donne del capricorno non sbagliano quindi non gli puoi dire correggimi se sbaglio e le dirò di più brusasco se aprite play store hanno inventato una app che vi dice se una donna ha ragione e sa come si chiama? come si chiama? a prescindere mi sembra un po' di parte questo rosco ma così è a grandi no è il mese della donna è il mese della donna sì sì scusi acquariesse le acquariesse cari uomini un consiglio prezioso delle stelle per chi di voi vorrebbe frequentare una donna dell'acquario se lei vi dice tre minuti e scendo vuol dire che entro tre minuti no scenderà punto è inutile che state a citofonare ogni mezz'ora voglio dire la nervosite basta e ricordatevi sempre che in ogni donna dentro c'è una Marilyn a volte Monroe a volte Manson è quello il problema amica di che segno sei capricorno 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 pesci anche tu siete capricorno Massimo anche tu siete capricorno so agitare siamo arrivati in fondo io sono nato il stesso giorno dalla moglie di Massimo invece qualche anno prima io ma comunque vabbè non importa ci facciamo sempre gli auguri e poi guardiamo le nostre chat ci sono chat dell'8 gennaio auguri auguri anche te auguri auguri anche te è tutto così basta poi tutto l'anno va bene pesci l'ultimo donne credete di più in voi stesse e siate autonome aumentate la vostra autostima ricordatevi sempre che una donna ha bisogno di un uomo tanto quanto un pesce ha bisogno di una bicicletta quindi tante volte anziché prendere un marito prendete un muvito serena angelini grazie allora prima prima di farci ancora un giro di chiacchiere rapido con tutti Franco ce l'abbiamo un brano sotto mano c'è 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 il microfono sotto mano ce l'hai un tastierista bravo si c'è il microfono che è quasi un po' più alto per pensare e un percursionista bravo ce l'hai e lì davanti a me mi gira la schiena alza un pelino alza un pelino e tu che cosa ci canti cosa ci canti tu mi accostumbraste mi hai preso in braccio mi hai insegnato mi hai portato di qui mi hai portato di là lei mi hai capito voi ha ragione ha ragione Franco Rangone Salotto tu mi accostumbraste a todas esa cosa e tu mi insegnaste di sol maravigliosa tu ti rienaste a me con la confession e in alto di inquietud mi corazzo io non concebia come te queria e in tu brazo sueño e poi ti apprendi la belle delle non soigne io non je non come le poigno a me veramente triste la madalì Anbietà Llegaste a mi, oye, la confesione E tu mi ricordo, mi corazón Yo no conseguia como se quería En tu mundo raro, y por tu aprendí Te quiero, no me amazo, de mi alegria ¿Por qué no me enseñaste para vivir sin ti? ¿Por qué no me enseñaste para vivir sin ti? ¿Por qué no me enseñaste para vivir sin ti? ¿Por qué no me enseñaste para vivir sin ti? ¿Por qué no me enseñaste para vivir sin ti? ¿Por qué no me enseñaste para vivir sin ti? Cero di chiacchiere e poi ci salutiamo Allora Massimo abbiamo detto, dicevo prima, varie associazioni di Alessandria Stanno nascendo, Spinetta, due addirittura, quella del Cristo, la vostra Insomma vuol dire che c'è fermento Facciamo il campionato poi Campionato, sì Vuol dire che c'è fermento Sì, c'è fermento, c'è speranza di poter fare sempre qualcosa di buono per la nostra città Tra parentesi, vi invito il 6 di aprile che ci sarà l'inaugurazione della via È la domenica delle palme? No, è dopo, è dopo palme Era una battuta, era una stupidaggine Niente, ci sarà una bella festa che partirà da Piazza Marconi Fino ad arrivare in Piazzetta della Lega, tutta via San Lorenzo E diciamo che ci saranno un po' di cose Non sto a raccontarvi niente perché mi piacerebbe che veniste a vedere E assaporaste la sorpresa Per quanto riguarda Marzodonna, noi queste palme Visto che sono, lo dico, che sono state ammazzate Dalla gente Perché purtroppo ogni tanto avevamo una persona che ne sapeva Si chiamava Eco e ha parlato non tanto bene dei social E quindi purtroppo su questi social ci hanno discretamente ammazzato Eh vabbè, ci sta, dai Però l'abbiamo presa, abbiamo messo in saccoccia e l'abbiamo portato a casa Però diamo anche una risposta Queste palme in questo momento servono e le utilizziamo anche comunicativamente parlando E essendoci Marzodonna, per tutto il mese di marzo Troverete sotto ogni palma una frase con una foto Una foto di una donna famosa che questa donna ha detto E noi l'abbiamo riportata e quindi verranno utilizzate anche per questa cosa qui Oltre a essere praticamente il sito di qualche evento che noi pian pianino andremo a presentare Tutto, tutto ed esclusivamente tutto per la nostra città Nella speranza che gli alessandrini tornino a rivivere quelle che sono le vie San Lorenzo era la via del mercato una volta insomma Siamo partiti da lì perché siamo partiti da quella via lì perché è ancora una delle È una via dove ci sono pochissime catene Anzi c'è una catena sola Catene nel senso di franchising Ecco, quindi diciamo che c'è ancora diciamo il lomino Il negozio di Alessandrino E quindi volevo invitarvi appunto tutto il mese di marzo a vedere queste Sono dodici, una per palma c'è un quadretto con una scritta Che è un modo insomma per portare gente anche in via San Lorenzo E poi ne usufruiscono anche tutte le altre vie Quindi le traverse eccetera Grazie Massimo Castelli e in bocca al lupo Alla città nostra, caro Roberto Senti, ci racconti Dimmi, 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 dimmi Roberto Scusate Profitto della presenza del sceneggiatore che prima diceva Che con Matteo Bandello abbiamo la fortuna a Castelnuovo di avere un bravo giovane attore Che lavora con il teatro stabile di Torino E si sono appassionati a Bandello e quindi stanno lavorando per ricavare un'opera teatrale Perché le sue novelle Sono assolutamente una miniera di situazioni, di cose Altra cosa che mi viene in mente Bandelliana che una serata così sarebbe piaciuta moltissimo a Bandello Perché lui scrive a un certo momento che è molto saggio Unire a cose serie altre cose più leggere, più faccette Perché questo fa parte anche un po' della vita Quindi avrebbe apprezzato i losbukoski ad esempio Avrebbe apprezzato anche loro certamente Avrebbe apprezzato certamente Scusatemi Mi sono portato dietro un po' di materiale informativo Se qualcuno dopo la conclusione avesse voglia di avere qualche informazione in più Sono a disposizione di tutti Bene, grazie E ci sono a disposizione combinazione anche dei libri No, diciamo Gli ultimi due libri Sono romanzi? No, il primo Cioè il primo nel senso l'altro Quello che è uscito L'anello Il dito è l'anello Il dito è l'anello Qui non spiego il titolo ma nel libro c'è È una raccolta di articoli Sarebbero degli elzeviri come si usava un tempo Quindi fondi di terza pagina Che possono spaziale letteratura, cultura, arte Ma anche divagazione Anche racconto autobiografico Quindi insomma ci sono molte cose Io sono fedele al detto bandeliano Quindi cose alte ma anche cose normali Ma è una cosa che ci piace L'altro è un diario Quindi in cui mi racconto Vengono chiamati questi libri Da uno scrittore che io apprezzo Romanzi diario In cui il protagonista è l'autore stesso Che si racconta la vita che gli gira attorno Quindi è un libro Tra virgolette verità Che uno si racconta Nella cruda situazione In cui capita di vivere Quindi si mette un po' a confronto E anche un po' a nudo Se vogliamo Si chiede sempre all'autore Hai un libro nel cassetto Che deve uscire? Cioè la domanda canonica che si fa? Ma in effetti sì Perché ho già iniziato il secondo diario Quindi è un genere diaristico Io l'ho anche studiato Perché a Castelnuovo Accanto al centro studi Matteo Bandello Noi abbiamo quest'altro scrittore Castelnuovese Che è Pierangelo Soldini Ah sì A cui è intitolata la biblioteca No? A cui è intitolata la nostra biblioteca I suoi tre capolavori Sono tre diari Allora io in omaggio a lui Ho costituito un fondo Quindi una raccolta specializzata Nella letteratura diaristica europea Quindi raccolgo i migliori diari Insomma esistenti Io per completare questa promozione Ne ho scritto uno io E adesso sono passato al secondo Roberto del Conte Grazie Grazie Roberto per essere stato con noi E tu che cos'hai nel cassetto? Nel tuo cassetto cosa c'è? Nel mio cassetto cosa c'è? Cioè praticamente il quinto libro E poi volevo rilasciarmi anche Poi vabbè a parte le cinegiature Ci sono tre cortometraggi che viaggiano su YouTube Sono tre racconti che sono diventati cortometraggi Come li troviamo? Allora su YouTube bisogna andare a cercare I Lifidar I staccato Lifidar Che sono un gruppo di ragazzi Che hanno partito gli attori I Lifidar Ok E poi ci sono questi racconti Che poi sono diventati cortometraggi E volevo aggiungere Che io ho studiato Autodidatta comunque paranormale E quindi voglio dire anche Una cosa che mi piace molto E quindi anche lì è una tematica abbastanza un po' scottante Perché magari Io mi ricordo una puntata del Costanzo Quando a un certo punto lui disse Si arrivo al pubblico E chiese se qualcuno avesse avuto un'esperienza Paranormale Però c'era una donna che con la manina si è alzata Che poi il figlio era deceduto nell'un incidente di moto E quindi lo sentiva vicino A un certo punto nel giro di mezz'ora Si sono alzate 30-40 mani Capito? Questo lo voglio dire Voglio dire che poi magari ognuno di noi Ha avuto un'esperienza Magari poi se lo tiene per sé Un po' della vergogna Che cosa Che magari non lo vuole parlare Comunque è una tematica Che ci accumula da vicino Perché sono dimensioni sovrapposte alle nostre Adesso se non fosse tardi Chiederei E poi No, no È molto interessante la cosa E quindi poi Io mi ci metto Vado avanti con la sceneggiatura Con la scrittura Che è la mia passione In bocca al lupo allora Grazie, grazie Sergio Pizio Cara Anita Allora Che cose ho io nel futuro Nel futuro faccio delle masterclass sull'olio Masterclass sull'olio Quindi una viene da te E impara a gustare l'olio No, io vado Che può essere golosaria Può essere slow food Può essere quello che volete E faccio dei corsi Per insegnare la degustazione dell'olio E capire l'olio Perché come vi ho detto prima per me È il primo alimento Al quale noi dobbiamo dare rispetto E dobbiamo proprio cercare di capire Ma come si fa a fare il sommelier dell'olio Perché questo è interessante Il sommelier dell'olio lo fai appunto Perché capisci che cosa stai gustando E lo avvieni al cibo E quindi a un cibo Voglio dire Leggero Con un sapore leggero Non puoi mettere un olio troppo pesante E quindi devi stare attento a questo Devi stare attento a come cucini Perché c'è anche la cucina all'olio E quindi è tutta un'altra cosa Immergi nell'olio Ma il fritto si può fare con l'olio d'oliva? Si deve Si deve Chi è che fa il fritto con l'olio di semi? Dai Alzate Alzate la confessate Boh, boh, no Boh, no 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 Olio Eh Tutti eh Extravergine d'oliva Facciamo friggere, certo Perché è al punto di fumo più alto Eh Ma adesso non sapete niente voi Cosa parlate? Cosa parlate? Il punto di fumo dell'olio di semi è molto basso Tu l'accenti fa subito fumo Quindi non va bene Viva l'olio extravergine d'oliva Bravo Va bene, va bene Qui sono da Monferrini, ci sono messi d'accordo Eh A dita Aquilino, grazie Grazie E allora Io vi Nel darvi appuntamento al mese prossimo Augurare ai papà Una buona festa del papà Sa Chiudiamo facendo un po' di casino Facciamo una sigla finale con i losbucoschi Dai Grazie a Franco Rangone naturalmente Grazie a Gianni Nesto Ezio Bescovo Grazie agli amici Di Videoservizi TV Eccoci qua E quelli che ci hanno seguito Da casa attraverso le pagine Facebook Fai il promo Fai il promo Vado allora E questo qua è il tramite No? E questo gemellaggio E' uno dei nostri figli De generi Perché magari voi pensavate No c'è il disco C'è 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 E' un nostro figlio de genere Che parte dal Monferrato E arriva nell'Alessandrino Quindi noi Eh Lo doneremo simbolicamente A Massimo Eh Brusasco E devo dirlo qua davanti a tutti Che io gli ho fatto una caterba di gola Ma Massi Ma va Ma va Che non Va Che voi non avete idea Come si intitola questo bel lavoro? Allora Questo disco si intitola Senza fiato Senza fiato Anche in Alessandrino dicono Cosa vuol dire senza fiato? Senza fiato Senza fiato Senza fiato Perché Dopo trent'anni Ci siamo trovati a cantare A Opinelfia E non ce l'abbiamo più Io però volevo Far leggere un titolo A una Chi c'è Chi è qua? Alessandrino Che parla bene il dialetto Pasino Ecco Mettiamolo alla prova Allora Lui leggerà i titoli Tassari Premis Cernet Leggi qualche titolo Ho fatto di tutto E' italiano questo Può di me ne scappare Stuf da tussi Stuf da tussi Cosa vuol dire? Stuf da tussire No Stuf o di tossire Esatto La tompa La tampa Lo sapete cos'è la tampa? La tompa La tompa La tompa Noi diciamo la tompa Loro dicono la tompa Ma noi diciamo la tampa Ok Dove si buttavano Gli escrementi degli animali? L'astra lì L'astra lì E' quella che abbiamo fatto all'inizio Piantla lì A cala suocera Alto fiala Spisampok Alto fiala Spisampok Che sarebbe La parte dialettale Di Il tuo bacio È come un rock Alto fiala Spisampok E si va avanti Via Al tabacchino e al maslé Al tabacchino e al maslé Lo sapete chi sono? Sì, certamente La baccaio e il macellaio Ok Gafti la canottiera Gafti la canottiera Cogli la prima mela Noi abbiamo fatto Gafti la canottiera Gafti la canottiera Gafti la canottiera Gafti la canottiera Bravo Questa non so se la posso leggere In fact la pientò il chicarmela Perché è l'8 marzo E così via E così via E così tante altre Ecco io però a questo punto vorrei Prendere Chiedere A Massimo Di fare una promessa A questo pubblico Visto gli invitati di questa sera E le nostre origini Noi abbiamo Due musicisti Che hanno a che fare con la campagna Sono due contadini Io farei una cosa Un giorno Che lui deciderà quale Andiamo a Castelnuovo Con un trattore Un aratro Facciamo un bel solco Fino in via San Lorenzo Da via San Lorenzo Fino a Olivola E poi la maturina Coordinati da uno sceneggiatore E là a Olivola Troverete i lo sbucoschi L'addestratore di Gagnolini E la politessa E lui che ci presenta Cosa dite? Lo facciamo questo? Un bel solco Da Castelnuovo A via San Lorenzo Allora A Olivola Facciamo l'ultimo pezzo Con cosa chiudiamo? Con cosa chiudiamo? Chiudiamo con un pezzo Che parla Visto che noi arriviamo I contadini Contadini Che parla di contadini La meccanizzazione Una volta Aiavola Vaca L'aratro E tutto e quante Adesso hanno il trattore Con l'aria condizionata Ecco Quindi noi Abbiamo fatto questo pezzo qua Potete battere le mani Sentite il ritornello Una volta ve lo ricordate sicuramente Che si intitola Man Pias Gratami la panza Che è Un rifacimento Di quella bellissima canzone Che a Sanremo Si intitolava Una vita in vacanza Noi facciamo Man Pias Gratami la panza Grazie a tutti voi Monferini Alessandrini Grazie al nostro amico Aspettiamo Dimmi dimmi Scusa un attimo Volevo dire che Anche L'agente segreto 007 Si era fatto Un complesso musicale Si chiamava James Band Ciao Ciao Buon ritorno a casa Ma Pias Gratami la panza Io Sbukowski Per voi Ciao ragazzi Muota te E qui E qui L'aria condizionaria Contadino diverso Contadino diverso Contadino perverso Che finì E te Con al trent Con tu pui Sonsetate Pinacca Pinacca Buon curi Buon curi Buon curi Buon curi Buon curi Giela col diretti Titangia che cruata Stas tala come noi da la mangiare la vacca Aieri cia bot Anta strai preioc Ant la gota con lui Antpina voi basla Mami, io il sogno, hai e i trifolau, e i casadù, che ha scattato i campi che hai fissutratù, e con l'ercolino ha carriato i baloc, con la sapa e il bello ha spucato i fos. Mami, io il sogno, Mami, io il sogno, mi sono il padrone, piascatami la pancia, con la vecchia Romagna, e sarà una stanza per giubacca e viva, fa sempre la vacanza, contadino diverso, contadino perverso, e finì il tempo, con il Trent, con Dubuì, se ne sentate in Pinanca, Pinanca, Bunkuri, Bunkuri, Bunkuri. Bunkuri, 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 tra vai a mangiadrome e caga, a plupare i bar da mezza paga, e adesso, agli anni rasta e di tatuaggi, hai il femmule, ma che curaggi, e quando capire, hai vanno al bar, e parlo insieme, ma che fisso sta, e lui giù, ma tanta fatica e poca riga, piascatami la pancia, con la vecchia Romagna, e sarà una stanza per giubacca e viva, fa sempre la vacanza, contadino diverso, contadino perverso, e finì il tempo, con il Trent, con Dubuì, se ne sentate in Pinanca, Pinanca, Bunkuri, 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 grazie a tutti, buona notte, ciao! Grazie, 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 grazie.